Fin da ragazzo ho avuto a che fa con la musica, ho sempre suonato, ho avuto dei gruppi, eccetera. E però sentivo Ivin Floyd, ma anche Sergio Bruni, Gliarea e Claudio Villa, proprio parallelamente, capito? E quindi ho sempre cantato, scoperto, sono andato a ricercare le cose di Teseo, delle canzoni romane in particolare. E come dicevo prima, cercavo di, anche perché hanno una grossa valenza teatrale, e quindi è materiale che io mi sopportato appresso tante volte, per dei provini, per dei momenti, delle esibizioni dove ti chiedono invece di fare essere o non essere, che è più semplice cantare uno stornello bellissimo perché ce ne stanno dei straordinari. E quindi, cantando anche adesso, ultimamente, alcuni pezzi, cerco il modo di presentarle al pubblico in una veste nuova, con un vestito un po' più adatto all'epoca. Io vengo da una famiglia di onesti fregnoni che magari se morivano di fame, ma vivevano con questa mania, con questa ossessione dell'onestà. Con una serie di idee su alcuni pezzi che io già avevo in parte scelto, un po' con la chitarra da solo, cercando qua e là delle intenzioni, poi bisognava chiamare quelli pratici. Quindi il mio gruppo, i miei musicisti, con i quali non è possibile, insomma, coinvolgerli gratis, perché si sono professionisti, allora non sapevo come fare, allora ho parlato con il Music In, che è un locale storico di jazz qui a Roma, e ci hanno dato il martedì fisso per due mesi. Perciò noi andavamo, c'era un po' di pubblico, poi anzi, dopo un po' si era sparsa la voce, cominciava a venire gente, e alla fine di questi due mesi siamo riusciti a mettere su un repertorio che abbiamo fatto dal vivo. Io ho suonato l'estate a Garbatella, in un mercato coperto, a Piazza Bologna, cercando sempre qualcosa che fosse legato un po' al territorio e al popolo. E poi dopo, quando avevamo suonato già diverse volte, fatto dei concerti così, abbiamo detto, però qui bisogna registrare. Certo, possiamo anche fare una registrazione che serve solo a noi, però il disco sarebbe una cosa... E allora lì ho pensato, ma il disco, io poi non sono un manager, non telefono a nessuno, come, appunto, le serie televisive, so, diciamo, una... diciamo, il foraggiamento che è per tutto l'anno, assolutamente, ho parlato con una sala di incisione, conoscevo un jazzista, eh, che siamo chiusi lì dentro una settimana, abbiamo registrato tutto, ho registrato tutto come volevo. E non è diverso dalla realizzazione di un film, c'ha gli stessi problemi, c'ha gli stessi problemi. C'ha le stesse, per esempio, il musicista che vuole venire a vedere il missaggio per sentire, ecco, e non è diverso dall'attore che va al montaggio e vede che mi hai tagliato, che mi hai fatto, come si è avvenuto, ecco. Quindi, poi il fonico non è diverso dal direttore della fotografia, che decide che, tipo The Good, dal produttore, che decide proprio la confezione della cosa. Diciamo, io ho fatto la mia opera prima, cercando di mantenere assolutamente coerenza con quella che era l'intenzione del disco. Poi ci ho trovato quel fonico che ogni tanto parlava il fonichese, io non lo capivo, e quindi poi abbiamo deciso di parlare una lingua comune, e alla fine ci siamo capiti, perché, e siamo, lui, molto contento, poi è entrato poi dopo, in un secondo momento, nella coproduzione, perché ha capito che disco era, gli è piaciuto, e quindi l'ho prodotto con Giuseppe Vadalà per l'etichetta Nuccia, che è un'etichetta di musica jazz italiana.